Il professore Giovanni Maria Flick è stato protagonista di un incontro al Siracusa Institute di Ortigia. La Costituzione è un patto che guarda al futuro facendo tesoro della memoria del passato, un patto di inclusione e di partecipazione, non di esclusione, è di appartenenza. È un vero e proprio manuale di convivenza, questo ha detto alla platea che era abbastanza numerosa questa mattina. Fine vita. C'è o non c'è questo diritto a chiedere che testo mi aiuti a vincere. E allora come lo si, è l'unico di una brutta parola, il discorso, l'interrogativo se c'è o non c'è questo diritto, discutendo sulla procedimentazione del modo su come riconoscere o meno questo diritto. Grazie. Grazie.